La Commissione Bilancio manda in aula al Consiglio regionale una variazione di bilancio per far fronte ai danni dell'emergenza incendi. Quello che noi dobbiamo fare è reperire delle risorse per riparare questi danni immediatamente, ma soprattutto consolidare una politica di prevenzione che di fatto non è mai stata fatta e che anzi ha visto negli anni passati una diminuzione di fondi, una poco previdente diminuzione di fondi proprio per la prevenzione degli incendi, la gestione poi e i soccorsi durante gli incendi. Oggi il sistema di protezione civile per l'antincendio è fondato dal supporto dei vigili del fuoco fondamentale e dall'altro da un sistema di volontari che però deve essere formato e questa formazione ha anche dei costi e quindi una parte dei costi per le convenzioni sono stati dirottati sulla formazione dei volontari che poi si trovano ad operare a fianco a fianco con i vigili del fuoco. Non possiamo mandare persone allo sbaraglio che non hanno nessun titolo poi a farlo perché poi nel fare del bene si rischia di creare altri danni. E' pronta ad essere discussa in Consiglio regionale anche la modifica alla legge 46 del 2019, istituzione dell'Agenzia di Protezione Civile, il cui testo è stato illustrato dal capo dipartimento della Protezione Civile regionale Mauro Casignini alla Commissione Bilancio. L'Agenzia, dotata di autonomia decisionale e di spesa, prevede l'impiego attraverso il distacco del personale della Giunta regionale. Una norma per dare finalmente il via all'Agenzia di Protezione Civile per avere una struttura fnella che possa rispondere a queste emergenze in modo puntuale senza poi dover ricorrere a degli emendimenti in aula rispetto al reperimento delle risorse. Sul taglio delle risorse che avrebbero permesso una migliore campagna di prevenzione e pianificazione responsabile la politica e il Governo regionale, il Governo Marsilio, mi sento di sottolineare questa come assolutamente una mancanza anche di tatto da parte del Governo regionale perché più volte era stato anche invitato all'inizio dell'estate a dar seguito a quello che è sempre avvenuto negli anni scorsi. Chiedo alla Regione di mettere in campo con questi tavoli o con un lavoro appropriato le risorse del PNRR. Voglio ricordare che una delle missioni riguarda la tutela del territorio, la salvaguardia delle comunità del territorio, dell'ambiente, del verde, la transizione ecologica e il dissesto legato alle situazioni idriche. Ci vorrà ancora un po' di tempo per avere una conta dei danni che chiaramente non potranno essere solo a carico della Regione Abruzzo perché quello che è accaduto domenica è stato un'emergenza di natura nazionale, però noi ci metteremo in condizione di far operare i comuni e di iniziare le prime operazioni di stanziamento per i danni che hanno subito sia le aree verdi, le riserve regionali, sia gli agricoltori. Sperando che anche il Governo nazionale, come io credo, visto anche ciò che è accaduto in Sardegna, ciò che è accaduto in Sicilia e purtroppo anche in Abruzzo, stanzi subito lo stato di emergenza che ci permetta di essere ancora più incisivi.